Bruno, ma cosa stai facendo? Tu me hai detto di farlo Sì, ma io non ti ho detto di schioccare le dita così in aria E allora, fallo tu Nella faccio la proposta, ok? Stiamo cercando degli agenti che possano commercializzare i nostri detergenti ecologici sul territorio italiano Se anche tu sei interessato, fai clic al link di iscrizione e scopri tutte le posizioni aperte In fondo, è facile come schiaccare le dita Grazie